Ad Agrigento l'hub di vaccinazione già funziona, è stato non inaugurato ma abbiamo potuto assistere al suo pieno utilizzo ed è un messaggio importante perché la campagna di vaccinazione non si può fermare, non abbiamo motivo di dubitare della scienza, dobbiamo anzi guardare con fiducia a questa fase perché oltre il vaccino non c'è nient'altro che possa restituirci alla normalità.